Non è tanto una partita sperimentale, noi avremo modo di analizzare la proposta che faremo in campo, dal punto di vista del comportamento della squadra. Dobbiamo valutare i giocatori che sono sotto osservazione per capire eventualmente il recupero dopo la gara. In linea di massima i 23 li daremo quando torneremo da Londra, quindi dopo l'allenamento dell'1 dovremo avere i 23.